musica eccoci ragazzi su un nuovo video di Resident Evil 6 benvenuti da PepTheGame94 e ritorniamo all'attacco allora ci eravamo fermati qua che c'era tutto sto bordello qua che eravamo qua dove passano i tram fantastico un posto bellissimo e possiamo anche andare avanti allora allora ok questo già non mi piace questo non mi piace per niente io metto qua che sfortuna io ho 22 di munizioni quanti sono? perché io ne vedo veramente tanti porca porca troia bastardi attenzione un treno un treno un treno ma che ca... ma ho capito ma se non mi dice ma se non mi dice ripararmi ma non mi sta per aprire il culo ma allora sei stronzo adesso col cazzo che mi prende mi metto da questa parte così passo col cazzo di treno e non mi rompe i coglioni quanti cazzo sono te bagascio dove sei? cerca di non morire ci sono ancora le palle finiti muore mi sbatto il cazzo sono lì qua fottiti ha preso lei il treno rompe il cazzo a me e poi... però basta che non muore vai 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 velocissimo vai 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 ragazzi avete rotto i coglioni uno è andato uno lo piglio a calci in culo l'altro da dietro ma quanti cazzo siete? oh ma si cattivissimi cattivissimi buono cattivissimi ce n'è qualcun altro dai qualcun altro tu vuoi rispaccare il culo? eh? oh eh che cazzo eh datemi un po' di munizioni un cazzo mi hanno dato le munizioni però va bene eh 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 no cazzate sto per stanno ti ma non è vero possiamo andare avanti bello quando cazzo usciamo da sto minchia di di trenitalia qua porca miseria ah ok allora lì c'è qualcosa allora dobbiamo entrare ok buona sapersi quando si spengono le luci è una buona cosa io amo sto gioco ho già detto no? che amo sto gioco vediamo qua se c'è qualcosa non c'è assolutamente ho una sega fantastico fantastico io direi allora a sto punto di possesso lo sento ma non lo vedo dove 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 bastardo ma che bella è finchia ci ha tirato ci ha tirato un calcione allora non si apre perfetto non si può aprire ah ho capito voglio dare un'occhiata là dentro spingimi su ok 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 ho capito capito si ma non lasciarmi indietro ah si non lasciarmi indietro vai chiaro vai chiaro è passata da chiaro a roger da roger a chiaro dai apri un po' sta cazzo di porta fai una cosa veloce no dove cazzo sia scusate mi spieghi perché era bloccata c'è niente davanti perfetto questi non rompono i coglioni vero ok ecco andiamo veloce oh l'ho sentito l'ho sentito ok dove è finita l'altra ah ecco perché ce n'era uno che si era si era mosso bastardo eh vieni 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 che boi posticini vedi questi sono posti romantici vedi che cazzo fa ah perché io gli ho spuntato la luce no dai aspetta adesso non fa più è stata roia sembrava che io avessi puntato la luce in faccia si era ci vabbia un cazzo quando apri la porta lentamente ok siamo vicini a fine all'altro jackpoint eccolo al cazzo proprio ce l'ho scoperto muori non sparai solo te no ah l'ultimo colpo io ho dato io che cazzo calmati eh vomita la roba questa muori male andiamo a cercare via a sto posto dove c'è l'altro dietro ah c'è l'altro l'orda dietro sono risvegliati pure questi strozi sapete che mi dispiace tanto ma quanto mi dispiace sono arrivati tutti in cazzone vai vai apri spi sta cazzo di porta te e roger ha detto roger ha detto roger è ritornato a roger te non muoverti evita bravis te evita bravis te come cazzo ha fatto a prendermi no ditemelo spiegatelo spiegatelo spiegatemi come cazzo ha fatto a prendermi oh morto oh si 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 c'è dato c'è dato l'erba che possiamo combinare perfetto vi ricordavo ci ne abbiamo ancora una bello abbiamo finalmente eh li usiamo già tutti e tre eh voglio dire che si tanto oh ci manca pure questi che sputtano la roba brava 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 renditi utile nella vita eh munizioni perfetto io direi che le usiamo no usiamo tutte ah perché mi hanno tolto uno stronzo ecco mi sembra ok oh siamo arrivati alla stazione alla stazione perfetto direi che ci siamo ok direi che perché porca puttana il ciampo sembra che è in pericolo allora ok mi state dando troppe bombe ma io me lo ricordo sto pezzo me lo ricordo perché io vi ho già detto che questo gioco l'ho finito ma un po' di tempo fa però io me lo ricordo bene sto pezzo che arrivi qua e poi apri ah e c'è la puttana lì dentro sì sì quella che mi apre lì al sportello aspettate ragazzi questa volta lì in culo tantissimo aspetta guarda facciamo così piazzo queste qua una qua un'altra qua no non volevo volevo piazzare un'altra non posso piazzare un'altra ah ne posso piazzare una fa un culo vabbè la piazziamo lì va bene ci sta allora possiamo aprire eccoli bella merda eh sta puttana devi morire male brava coglione brava ora muori male insieme a tutta l'orda di zombie ok venite stronzi venite venite avanzate ho fatto una fottuta strage sono ancora vivi che bello no dammi la pistola pistola questi cazzo di ac ho fatto fanculo vi ho fatto esplodere una cazzo di bomba porca puttana non mi fate usare le granite cendiale e poi divento stronzo e userò le granite cendiale fate usare meno le granite cendiale stronzi di puttana scioglietevi agli inferi stronzi te provate a sputare ti apro il culo dai che ero sciotto dai che quanto cazzo minchia hai rotto il cazzo basta no non è ancora morto ma porca puttana avete rotto i coglioni tutti quanti adesso non prendo tutte le munizioni ti muori anche te prendi sta cazzo di asce e finta il culo oh alleluia ci siamo ah altra gente sta arrivando no no fuori te coglione andiamo su mi sono rotto le palle vai veloci andiamo ma che bello che sei guarda spum è passato a miglior vita io direi che possiamo anche andarselo aspetta ah no è ancora il rio stronzo muori e muori minchia ancora che fai ok minchia che volo che ho fatto oh dove è la puttana ancora una ce n'è eccola oh 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 è morto è morto può venire può venire perfetto 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 abbiamo preso tutto possiamo andare siamo fortissimi ragazzi abbiamo fatto implodere abbiamo cucinati alla braccia delle belve delle belve dai 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 voglio voglio uno zombie fortissimo adesso no cazzato basta zombie per ora vai alla cattedrale perfetto andiamo sta cazzo di cattedrale che ci avete già tutti i coglioni con la cattedrale per la cattedrale attraverserete quella parte di città per precauzione tenete aperte le comunicazioni ma che cazzo mio dio quanta gente questo qua cosa intende fare lo prendo a cazzotti mi fico a lasciare il culo è morto ok ragazzi io direi che cazzo stai prendendo tutto se riesco a mettere un attimo pausa ok metto pausa per evitare e direi che con l'appuntamento di oggi finiamo qua e non so adesso quanto è venuto lungo il video spero almeno 10 minuti perché questo forse ho fatto anche un po' troppo corto questo vediamo un attimo e niente ragazzi l'appuntamento di oggi è finito ci vediamo alla prossima puntata di Resident Evil 6 ricordatevi iscrivete e mettetevi in piace bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti